musica ciao ragazzi sul mio canale allora oggi vi spiego cos'è questo programma questo sito che si chiama ultimitimedv.nl se abbiamo un programma per sapere quale vale il tuo giocatore per ora che tu hai che vuoi vendere per esempio gomez e tiguin ovviamente tiguin è uscito un po' la cavo di cane ma è uscito gomez per ora vale 1227 la media ovviamente io lo so a 1000 tiguin aspettate tiguin gonzale iguain regolare 800 850 1000 contro se non ce la farò lo bastano ancora un po' e buon ehm questi i miei dati che ho provato adesso voglio fare io voglio fare la tedesca e quindi ho provato anche con adesso avevo fatto un esempio l'esperimento di costo l'esperimento di costo che che i tra l'esperto i midi di 3000 se l'ho letto bene come te nessuno dice che c'è vedi che a volte sbaglio no vabbè un po' anche c'era Lucio beh Lucio non è così tanto forte infatti non è che cosa tanto quindi non capisco perché ho fatto estremamente di costo da come avviso di Natale ho detto c'è un problema di Natale di Natale di Natale ci sono quelli che sono chiamati c'è Luca Tagnoli c'è Luca Tagnoli questo è un po' anche di Natale che c'è già c'è già c'è già già l'anno 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 c'è quando il il s l'anno Questi sono questi, i 190000 Almeno questo è giusto Allora questo è tutto, ci vediamo al prossimo video Ovviamente questo è quello che vi piace del sito Ovviamente vi dirò sotto il link Per questo sito che si chiama Ultimimathdv.nl Al prossimo video con i giocchi Bella! Ciao!